La passione di famiglia è iniziata quando avevo 7-8 anni andando a vedere le corse con mio papà e da lì poi non è mai smessa. Tutto è nato nell'arco degli anni perché eravamo ovviamente vicini al ciclismo da giovani da bambini perché i nostri genitori ci portavano per poi tornare quando era l'ora di fare le cose serie. Dal momento in cui poi non c'è più stato mio papà ho deciso di prendere in mano le redini e insomma partire con questa nuova avventura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti A volte non serve solo la passione, ci sono anche le motivazioni, il voler credere in un sogno perché fondamentalmente è un sogno che può diventare realtà. Il bambino passa dal gioco all'aspetto ludico dello sport inteso come se stesso a poter provare a farlo diventare un mestiere. La categoria di ogni ora è una categoria molto delicata che per certi aspetti li proietta in un mondo totalmente diverso. La cosa è la filosofia di questa società che è sempre stata e sempre lo sarà è quella di imparare. I risultati si devono venire più avanti, noi dobbiamo essere bravi a insegnargli a correre in bici, a sbagliare il meno possibile e a capire cosa vuol dire fare fatica. Poi è ovvio, non andiamo le corse solo per tagliare un salame e fare festa, anche a noi piace vincere, però siamo dell'opinione che è meglio perdere qualche corsa però insegnare una lezione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!